Ciao popolo di Lega Nerd! Sì, questa che vedete alle mie spalle è proprio lei, è la El Camino di Jesse Pinkman. Sono a Roma, alle Fonderie di Roma, dove fino al 12 ottobre si può assistere a un'anteprima speciale di El Camino, appunto. Sì, quel di Breaking Bad diretto e scritto da Vince Gilligan. Oltre alla macchina, che è qui alle mie spalle, come vi faccio rivedere. Se siete nei paraggi di Roma, io vi consiglio di venire in Via Guidoreni 21, perché c'è una bella mostra dedicata proprio alla serie creata da Vince Gilligan. Per potervi accedere dovete iscrivervi sul sito elcamino.it e prenotare il vostro ingresso. Ci sarebbero anche delle proiezioni del film fino a sabato 12 ottobre, ma per il momento sono esaurite, e quindi vi potete inserire nella waiting list e sperare in un colpo di fortuna. L'appuntamento comunque è su Netflix dall'11 ottobre. L'appuntamento comunque è un po' di fortuna. 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 Sei pronto? Sì.